buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 22 agosto 2023 siamo pronti con i giornali resto il carlino corriere adriatico vedremo le notizie del giorno ma prima passiamo nel nell'almanacco nell'almanacco e vedere chi si festeggia oggi oggi abbiamo un titolo particolare attribuito alla vergine maria si tratta di maria regina del cielo ecco qui la grafica è stata una festa una ricorrenza istituita nel 1954 da pio xii che attribuisce a maria il titolo regale quale coautrice dell'opera redentrice del cristo quindi una regalità che noi festeggiamo per quanto riguarda maria regina del cielo allora passiamo alle previsioni del tempo oggi c'è poco da dire rispetto a ieri vediamo sempre la regione marche costellata da sole pieno condizioni anticicloniche anche oggi sulle marche con un cielo sereno le temperature massime saliranno dai 34 ai 37 gradi proprio come ieri le minime si sono attestate a 21 gradi vediamo che i 20 saranno a regime di brezza ovest nord ovest sulle coste nord est nell'entroterra il mare dovrebbe essere calmo ma di questo chiediamo conferma a lorenzo lorenzo premi dei bagni sergio buongiorno lorenzo buongiorno buongiorno a tutti com'è il mare stamattina il mare stamattina è calmo è un buon mare quindi si può godersi ancora gli ultimi bagni diciamo del di fine stagione beh non diciamo che sono gli ultimi perché se c'è buon tempo l'estate si protrae anche a settembre voi sarete aperti a settembre sì 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 sarete aperti vero fino 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 a noi sì e noi se il tempo è buono lo permette ancora quasi tutto settembre siamo siamo a disposizione sì 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 senti lorenzo tra due giorni a fano c'è la fiera di san bartolomeo quest'anno ci sono novità voi siete al di fuori del percorso della fiera come consideri questa novità questa variazione del percorso ma noi penso che ci cambi poco penso io ho saputo che da quest'anno parte da da cristallo verso verso l'ido la la fiera e niente comunque continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto beh comunque la vostra concessione è più raggiungibile perché tutta la parte di viale adriatico sotto quell'aspetto sotto quell'aspetto sicuramente sì 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 benissimo e parliamo ancora di quello che resta fino alla fine di agosto c'è stato una diminuzione di turisti dopo ferragosto oppure ancora le presente le presenze reggono allora per quanto riguarda la stagione non è partita proprio benissimo perché non c'è stato fino fino diciamo l'ultimo noi stiamo lavorando parecchio dall'ultima sita questa settimana scorsa che aveva c'è stato un bel incremento del turismo se no giugno e luglio stati un po un po così non c'è stato questo questa grande affluenza e però abbiamo visto che nelle ultime due settimane c'è stato un bel movimento di turismo lorenzo è importante il vostro giudizio questa mattina i giornali riportano la notizia di un nuovo decesso sulla spiaggia di torrette un bagnante di san costanzo purtroppo mentre passeggiava sulla riva è deceduto a causa di un malore ci vuoi ripetere tutte le condizioni di sicurezza che devono osservare i bagnanti quando vengono in spiaggia ma sicuramente guarda questo è un problema che comunque si ripete ogni anno noi lo diciamo sempre che nelle condizioni non non agibili il mare è meglio prenderlo con le giuste cauzioni anche per rispetto di chi lavora in mare penso che comunque anche in queste situazioni il bagnino diciamo mette a repentaglio la sua la sua vita quindi sempre meglio fare attenzione e se c'è la bandiera rossa il bagnino dice che non è proprio le condizioni giuste per fare il bagno è meglio ascoltarlo ecco e poi la vostra presenza è una sicurezza veramente perché oltre a tutti i servizi che voi date in spiaggia siete anche una presenza salva vita per coloro che magari sono imprudenti e si allontanano così forse non in maniera opportuna dalla spiaggia bene lorenzo ok grazie ancora per questo appuntamento mattiniero ti auguro una buona giornata e una buona giornata anche tutti i tuoi clienti noi siamo un po' invidiosi anche a voi anche a voi grazie a risentirci buona apriamo i giornali dunque questa mattina a partire dal Corriere Adriatico proprio riprendendo la notizia di cui abbiamo parlato con Lorenzo Premi dei bagni Sergio di Fano purtroppo una disgrazia che si è verificata ieri mattina alle prime luci dell'alba sulla spiaggia dei bagni Torrette trovato senza vita in riva al mare un pensionato colpito da un malore probabilmente non faceva il bagno passeggiava tranquillamente sulla battigia per prendere il fresco della mattina e forse anche per godersi il meraviglioso spettacolo dell'alba quando purtroppo è stato colto da un malore in quel momento non c'era nessuno attorno a lui era mattina molto molto presto e purtroppo non c'è stato nessuno che potesse aiutarlo è stato trovato poco dopo da un ragazzo il quale ha dato subito l'allarme sono intervenuti anche gli operai dell'Azze che in quel momento non molto lontano pulivano la spiaggia poi sono intervenuti anche i bagnini dei bagni di Torrette ma purtroppo nonostante tutti gli tentativi di ridargli conoscenza non c'è stato nulla da fare il 69enne aveva 69 anni era di San Costanzo si chiamava Gianfranco Fronzi era deceduto purtroppo aveva già sofferto di qualche avvisaglia per quanto riguarda la sua salute in precedenza ebbe una disgrazia alla quale non si è potuto così fare nulla per evitarla stava passeggiando all'alba sulla battigia Torrette dice il titoletto la guardia costiera apre un'inchiesta sul decesso e ovviamente sarà la polizia della guardia costiera a fare luce su quanto accaduto un altro infortunio un'altra disgrazia così possiamo definirla quella che è accaduta nel porto di Fano sempre nella mattinata di ieri è affondata una barca una barca che era agli ormeggi l'ex peschereccio Nettuno imbarca acqua e affonda l'acqua di mare ha cominciato a entrare nello scafo proprio nella mattina l'agente del porto afferma che il problema si è cominciato a notare intorno alle 6.30 e quindi sono poi intervenuti tutti i mezzi di soccorso sono intervenuti coloro che hanno cercato soprattutto di evitare che il carburante contenuto nello scafo poi fuori uscisse in mare sono state così messe delle cinture di sicurezza attorno allo scafo che affondava piano piano sono delle bande che evitano che il liquido poi di laghi insomma si espanda nelle acque circostanze e si è attuata una bonifica ambientale il recupero del natante sarà a spese ovviamente dell'armatore vediamo ora le altre notizie giriamo la pagina abbiamo un intervento della politica perché si è mobilitato il gruppo consigliare del 5 Stelle e nel consiglio comunale a Fano per evidenziare la pericolosità dell'incrocio che è in Sassonia tra via Caduti del Mare e Via della Marina dove recentemente si sono verificati addirittura quattro incidenti ne hanno fatto lo spese soprattutto coloro che viaggiavano sulle due ruote in bicicletta in motoretta e a causa soprattutto del mancato rispetto dell'obbligo di dare la precedenza ecco che i 5 Stelle invitano l'amministrazione comunale ad assumere provvedimenti più drastici più incisivi per evitare il ripetersi di queste disgrazie di questi incidenti già qualcosa è stato fatto per esempio è stato evidenziato lo stop ma ovviamente lo stop come segnaletica orizzontale ma evidentemente poi non si rispetta è stato messo anche uno specchio parabolico ma anche questo non è servito ad evitare il ripetersi di incidenti e anche i residenti della zona sono preoccupati perché loro poi quell'incrocio lo percorrono abitualmente stretta sull'incrocio maledetto maggiori controlli e si invoca anche l'autovelox ma questo sarà difficile che venga attribuito perché poi questi vengono messi nelle strade a grande percorrezza un consultivo veramente splendido quello che ha corredato a quattro giorni del paese dei Balocchi a Bellocchi di Fano il presidente Brocchini in quattro giorni di eventi oltre 30.000 presenze veramente una folla una folla particolare perché oltre ai bambini che sono poi i principali fruitori di questo evento di questa manifestazione c'erano anche tante tante famiglie e il paese dei Balocchi è una manifestazione adatta anche dagli adulti non solo perché è un'occasione per mangiare bene c'è veramente un'enogastronomia eccezionale ma anche perché ci sono tanti divertimenti adatti per gli adulti ci sono commedie ci sono concerti ci sono dibattiti che possono interessare tutta la famiglia ed è stata veramente dall'inizio della manifestazione con l'investitura sindaco di Pino Insegno grazie anche alla sua simpatia e poi tutti gli avvenimenti che ci sono stati dal cibo dalla musica dai laboratori per i bambini dai giochi insomma è stato veramente uno spettacolo che evidenzia sempre più l'importanza di questa manifestazione e vediamo anche un piccolo commento per quanto riguarda la rappresentazione teatrale del testo ispirato alla Maria Risorta che ha avuto luogo nella Darsena Borghese è stato il recupero dello spettacolo che è stato interrotto il 6 agosto scorso a causa del maltempo lo spettacolo poi è andato in scena nella domenica sera ed è stato veramente uno spettacolo interpretato molto bene dai ragazzi delle liceo Torelli a cui poi si aggiungeranno nella seconda versione quella più completa che sarà allestita all'interno del Teatro della Fortuna con i ragazzi del liceo Nolfi e Apolloni Apolloni poi che farà anche la scenografia dello spettacolo stesso ragazzi con un avverve particolare uno spirito veramente molto molto vivace una interpretazione efficace l'unica pecca un po' il dialetto che non era proprio in sintonia con il dialetto del porto e di questo forse bisognerà tenere un pochino conto allora passiamo ai colli al metauro questa pagina dedicata dal Corriere Adriatico al fotovoltaico sì al fotovoltaico ma dove lo devono mettere lo devono decidere i sindaci in realtà la legge è molto permissiva per gli operatori che intendono così mettere il fotovoltaico nei campi nelle campagne Briganti si appella ai colleghi per una battaglia comune il sindaco di Colli al metauro Pietro Briganti per una battaglia comune solo la pass non basta la pass è la procedura abilitativa semplificata che consente appunto agli operatori di cambiare l'aspetto delle nostre colline delle nostre campagne con un impatto ambientale non certo gradevole ed è non certo gradevole la scoperta che è stata fatta nei pressi di Cagli dove lungo il Burano lungo il torrente è stato ritrovato un grosso veramente grosso ordigno un aereo sganciato un aereo scusate una bomba sganciata da un aereo che durante la seconda guerra mondiale sorvolava il nostro territorio è stato trovato in località Foci sono intervenuti gli artificieri ovviamente è stato disposto tutto all'apparato di sicurezza per fare esplodere l'ordigno giriamo la pagina e siamo a Mondolfo ancora ladri nelle abitazioni spariscono gioielli e denaro i residenti scrivono al sindaco perché bene o male faccia qualcosa non è che il sindaco ha molti poteri per quanto riguarda l'ordine pubblico se non quello della polizia locale ma la polizia locale poi ha tanti altri compiti da svolgere in realtà qui sono le forze dell'ordine polizia carabinieri che devono intervenire e ovviamente la carenza di organico in questo caso si fa sentire ma gli agenti cercano di fare con tanta tanta abnegazione il loro dovere subito le telecamere che possono essere d'aiuto per individuare poi gli autori di questi misfatti di nuovo un fine settimana di paura per i residenti del centro storico di Mondolfo servono le telecamere di video sorveglianza il ripetersi di furti nelle case a tutte le ore del giorno quindi non solo la notte desta molta molta preoccupazione e c'è stato un vero e proprio escalation nell'ultimo fine settimana nella giornata di sabato si è registrata un'altra incursione dei Balordi in un appartamento di via Vandali i ladri hanno raffatto tutto ciò che di prezioso e di valore era all'interno della casa mettendo poi a soquadro come capita sempre in questi casi tutti gli ambienti ed ora passiamo a Senigallia a Senigallia ne accadono veramente di tutti i colori ma di tutti i colori ne accadono anche nelle altre località contromano sul lungomare era ubriaco si tratta di un diciannovenne era un turista originario della Lombardia non aveva mai preso la patente quindi non aveva la patente ed era ubriaco guidava una macchina è stato fermato e denunciato all'alba dai carabinieri nel weekend sono stati incentivati i controlli sul traffico appunto della costa e sono state elevate multe per 6.000 euro il che dimostra come molte molte persone derogano alle norme del codice della strada vediamo anche qualche notizia che riguarda la regione Marche ma soprattutto la costa è il nostro mare l'Adriatico si scalda e cambia la sua fauna fanno ingresso in Adriatico specie aliene specie che aliene ovviamente è un termine forse un po' esagerato diciamo specie esotico che appartenevano ad altri mari si tratta del granchio blu del tonno rosso del pesce balestra dell'astice americano meno seppie mazzancolle più naselle e tonni rossi tra le specie aliene il granchio blu elastice americano e questo forse è un male per i nostri mari perché cambiando la fauna questi nuovi ingressi si dimostrano sempre molto più aggressivi rispetto alla fauna tradizionale ma l'articolo di apertura sulla pagina di Pesaro è dedicato al cambio della viabilità per quanto riguarda l'arredo di via Curiel i posti persi si tratta di parcheggi si recupereranno al Carducci per il comune c'è un gioco di incastro lo sposto qui lo sposto là lo taglio qui lo recupero da quest'altra parte ma i residenti in realtà più che un gioco ad incastro chiedono più parcheggi un numero maggiore comunque il restyling di via Curie e la riqualificazione di via Passeri con l'inaugurazione che poi è ancora da stabilire hanno portato con sé un gioco a incastri per i parcheggi si tratta di vedere appunto come il comune cerca di risolvere questa situazione non vi sto adesso a dirlo perché poi l'articolo può essere letto la rassegna stampa non è per evitare di leggere i giornali completamente ovviamente l'invito è quello di recarvi in edicola perché se poi i giornali non si comprano nemmeno la rassegna stampa poi può essere fatta allora vediamo le altre notizie sulla pagina di Pesaro guai a chi tocca la pediatria pronte a scendere in piazza le mamme di Pesaro Mattioli e il partito democratico si affianca a loro alla testa di 600 madri contro il trasferimento a Fano ebbene quando si toglie un reparto ospedalieri in un ospedale e lo si pone in un'altra città ovviamente nascono sempre delle proteste la stessa cosa che è accaduta a Fano quando si è trasferita a chirurgia uno dei riparti base dell'ospedale a Fano ci sono dei surgery a Pesaro invece c'è proprio il reparto di chirurgia e ovviamente questo crea disagi al momento alle popolazioni in cui viene tagliato il servizio vedremo come l'Ast riuscirà a risolvere questo problema della pediatria a Pesaro ovviamente la pediatria è un reparto fondamentale per la salute dei bambini il servizio per gli scuolabus è già a rischio niente stipendi agli autisti dello scoppio tra poco comincerà l'anno scolastico e come accaduto anche in precedenza le ditte che assicurano il trasporto scolastico ovvero gli scuolabus non navigano in buone acque come già accaduto in precedenza dicevo questa volta anche la ditta scoppio scoppio è il nome della ditta che ha ricevuto in appalto il servizio dai comuni di Pesaro ma anche quello di Fano non se la passano bene gli autisti perché da qualche tempo non ricevono gli stipendi e questo fa parte di una denuncia che è stata evidenziata dalla Filt CGL che denuncia una situazione di incertezza che riguarda entrambi i comuni sembra che gli autisti non abbiano ricevuto gli stipendi di giugno e il TFR i lavoratori degli scuolabus della ditta sono in attesa al momento non è che hanno dissertato il servizio ma ovviamente lanciano un campanello d'allarme malore sui sentieri del San Bartolo un escursionista a soccorso in elicottero una complessa operazione di salvataggio poco prima una ragazzina si era accasciata sulla strada della marina e ovviamente questi malori non capitano soltanto sulla spiaggia ma capitano anche a chi si avventura con una magari natura un po' impervia nell'entroterra San Bartolo e sulla costa però insomma ha un paesaggio di tipo campagnolo di tipo boschivo bene questo è per quanto riguarda il Corriere Adriatico vediamo invece l'apertura sul resto del Carlino ebbene anche qui c'è una protesta protestano i residenti dell'Elido perché non c'è un bancomat a disposizione dopo la chiusura degli sportelli c'è che è costretto a fare chilometri per un prelievo e i bar anche il caffè si paga con la carta ebbene interviene anche la presidente della Confcommercio Barbara Marcolini che dice che è un problema per tutti e deve essere risolto perché quella è un'area strategica ovviamente il Lido è un'area frequentata non solo dai fanesi ma anche da tanti turisti viene definito come sappiamo il salotto di Fano quindi dovrebbe avere tutti i servizi compreso appunto quello del bancomat e poi a fondo pagina abbiamo la denuncia del gruppo consigliare del 5 Stelle in consiglio comunale per quanto riguarda la pericolosità dell'incrocio tra via della Marina e via caduti del mare il peschereccio che affonda nel porto scattate le misure anti sversamenti vedete qui le bande che sono state che sono state poste attorno al peschereccio che ormai è calato nel fondo ovviamente la parte superiore rimane emersa il fondo del porto non è non è molto molto profondo voglio dire qualche volta addirittura emerge in superficie e vediamo come queste bande proteggano appunto l'altra zona della Darsena mamma e figlio in bicicletta cadono a terra colpiti da un'auto anche ieri sono verificati incidenti stradali a Fano due feriti trasportati al pronto soccorso in uno è stato coinvolto anche un bimbo di 5 anni caduto dalla bicicletta insieme alla mamma per fortuna è rimasto inleso e poi vediamo che per quanto riguarda Mondavio abbiamo l'invasione dei pannelli che minaccia appunto il paese tre impianti in arrivo in 10 ettari al confine con San Lorenzo in campo si parla dei pannelli fotovoltaici l'appello del sindaco regione e governo rivedano la legge il comune ha le mani legate non possiamo opporci se sono rispettate le distanze anche i ricorsi altari in questo caso sono stati negativi per i ricorrenti perché tutta la legge è a favore della installazione di queste fonti di queste fonti energetiche alternative ladri e massaie entrano in casa e rubano anche la stirella a vapore veramente non c'è pace per gli appartamenti di Mondavio una villetta a Sant'Isidoro è stata messa a suo quadro presi contanti e oro presi tutto quello che serviva persino una stiretta appunto se c'era poi un computer ve lo lascio immaginare e Mondolfo celebra la Fisarmonica al debutto il Festival dei Tramantici quattro concerti dal 24 al 27 agosto Mondolfo è un po' la località della Fisarmonica insieme a Castelfidardo c'è un museo molto importante ebbene si rinnova la tradizione che è fatto la storia di questo centro e a Urbino con Baiardi se ne va un pilastro della cultura le parole commosse del magnifico rettore dell'Ateneo Calcagnini preziosissimo il suo contributo alla fondazione Bo era un riferimento per la vita politica e civica per lui sempre un profondo rispetto è stato il commento del sindaco Maurizio Gambini il 22 agosto come oggi nel 1944 Cagli tornò libera la città non dimenticherà mai oggi ci sarà una cerimonia in comune l'esercito alleato proseguì poi per Fossumbrone e Fano dove arrivò il 27 agosto e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina e per le notizie del giorno le 20.30 di oggi su Occhio alla Notizia il Tg di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci di Occhio alla notizia di oggi grazie a tutti Grazie.